Cos'è successo a questa città? Un tempo c'erano leggi, giustizia, crimine fuori controllo, gatti spariti. Il nostro compito era difendere tutti gli indifesi. Ora sappiamo che Scrambles, il gatto scomparso, è parte di un complotto più grande. Sappiamo anche che gli Amici della Libertà hanno più informazioni di noi sul complotto. Mega Pugno! Il motivo per cui gli Amici della Libertà sono in vantaggio è che sono imbroglioni e rotti in culo. Procione e i suoi amici, qui! Amici della Libertà, qui! Brutto strozzo! Sei proprio un coglione, Procione! Moschito, partner! Super Craig, è gay! Jimmy! Alla prossima, novellino. Ehi, ma che cazzo? Mi prendi per il culo? Festus! Oh, cazzo! Non si può stare due minuti al buio con un bambino che arrivate voi stronzi. Zagvark, scontri diretti! Zagvark, scontri diretti! Son. Sono coni? Si sono coni! Tappalando Trip.